Bella a tutti ragazzi, siamo tornati in un nuovo video, vi ricordate di Francesco? Ma questa volta abbiamo una nuova compagna, presentati! Ciao, io sono Cecilia! Quanti anni hai? 9, bene, poi? Ehm, lì compio 10-15 giugno, ok va bene, va bene. Allora, Cecilia ti devo spiegarti che dobbiamo stare spenti e non essere segnalati. Vi consiglio di andare sul mio precedente video che dei Pokémon ho trovato in Agix. Ok, eh. Oggi vi farò vedere questa cosa che tutti sanno. Non vi dico neanche il nome. Fijeflip è questo, l'altra versione. E quello con il 4, 2, 3. I Fijespimer stanno un po' passando. Oggi faremo, giocheremo un po' di Clash Royale. Un po' di Fijeflipper e poi... E poi vediamo. Potremmo fare... Potremmo giocare a Clash Royale con un Fijefstick. Ok, facciamo questo. Eh, sì, ma... Ci proviamo. No, no, ma poi si rovina lo smartphone. Ma no, ma no, come... Oh, intendi chi? Scarsa. Scarsa, non? Eh. Eh... Aveva... Giacchato... Ah, ma... Fijespinner! E lo faceva tirare, mentre... Però... Però l'aveva rotto alla fine. Quindi non... Questa. Perché poi... Prende la piazza. Bisogna sempre essere impegnati. No, 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 no. Ma cosa faccio io? Cosa faccio io? Una, due, tre. Una. 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 Scusa veloce, ragazzi, eh? Dai. E dopo lo chiamo sempre. Ma non può scadere questo? Puh, puh. Ah, no. Allora, so. Portami il tuo account una volta, così posso spacchettare qualche baule se vuoi. Vi dico che Davide... Aspetta, aspetta. Vi dico che Davide nel baule della corona ha trovato il mastino. E nel baule Super Mario... L'ha già detto l'altro video. Ah, è vero. Madonna, c'è la pila bassa. Ah, ok. Raga, c'è la pila bassa, quindi... Dobbiamo parlare o no, questo video? Ma non lo so. Lo stato caricato. Sì, ma si vede qua. Si vede. Ma sì che si vede. No, Clash Royale. Dopo dobbiamo scendere perché... Ma cos'è? With Clash Royale? Sì. With Castle Clash, Clash of Clans, Allora, Clash Royale. Royal. No, ma ora ho inito la connessione. E come facciamo allora? No, ma... Meglio di no. Dai, dai. Senti, spe... Non ho la connessione. Non si connette oggi questo. Ma tuo padre... Non si connette. Lo prova. Eh, ho già provato... lo stiamo caricando sei su youtube lo stiamo caricando non te ne sei accorta mi basterà una cosa adesso raga sto registrando con il temperino no no sto registrando col tablet col tablet solo che ci vuole ancora un po' di tempo vabbè ancora un po' di qual è ecco qua questo è mi faccio vedere sta roba raga cosa? no raga il produttore delle lisi giallo il produttore delle lisi giallo non prenderlo è un morbid rotto raga le lisi giallo è slime ma cosa posso fare? è slime sì sì no no qualcosa si rompe facendo allora non girate per la casa e andate a fare qualcosa nel video oh adesso vedremo vedere questo fidget flip cosa sa fare sì sappiamo ok vabbè lo sappiamo tanto è la moda aspetta vado a prendere il fidget spin e quanto si mette? chi non avrebbe questo è questo qua chi non avrebbe il fidget spin si comprende dicono 3 euro e 50 quindi su davide più vi farà vedere il fidget spinner il fidget spinner che è andato l'altra moda seguente che diciamo che è prima di questo no 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 aspetta non tira queste cose molto delicate ok quello era il fidget spin e quello che vi ho fatto vedere da benvenuti e ora è bella a tutti ragazzi il nostro video conclude qui e ci vediamo al prossimo video su non lo so su clash royale ok oppure nei disegni del puntismo ve li farò vedere bella decidete voi cosa fare di clash royale o i disegni dei puntini ok bella